pace a tutti grazie a dio per questa nuova giornata ci accostiamo subito alla parola del signore stamattina l'invito che vi voglio fare di leggere nel vangelo di matteo come stiamo facendo nel capitolo 9 dai versi 18 fino al verso 23 è un passo in cui si intrecciano due storie quella di jairo e della sua figlia e quella di una donna che viene ad accostarsi al signore perché desidera ricevere una guarigione in quanto affetta da una emorragia che la stava distruggendo sicuramente fisicamente ma probabilmente anche da un punto di vista psicologico mi soffermo un attimino sulla donna dal flusso di sangue giusto per evidenziare in questo giorno come il signore sia capace di rispondere alla fede sincera che viene espressa nella sua presenza perché questa donna non aveva nessuna speranza di poter incontrare il signore chiedere al signore di essere guarita e ciò in quanto non aveva più forze in se stessa non solo se leggiamo i vangeli sinottici vediamo che intorno a gesù c'era una calca di persone e questa donna che era ormai indebolita dalla lunga malattia non aveva la forza di farsi spazio o per lo meno sembrava non averne perché poi in realtà il pensiero di poter essere guarita e l'idea che se solo avesse toccato il lembo della veste del signore avrebbe ricevuto o liberazione da quella malattia le diede quella forza quella forza che probabilmente neanche lei pensava di avere per raggiungere il signore toccare il lembo della veste e ricevere una guarigione istantanea quante volte ci sentiamo senza forze e quante volte pensiamo di non riuscire a farcela eppure dentro di noi quella forza la troviamo quando si accende la fede ecco perché è importante che la nostra vita spirituale sia fondata sulla fede perché è la fede che sviluppa l'energia necessaria per poter raggiungere il trono della grazia di dio e noi ancora oggi vogliamo camminare come dice l'apostolo paolo per fede e vogliamo vivere una vita nella piena consapevolezza che a dio ogni cosa è possibile delle volte ci troveremo degli ostacoli davanti a noi quella calca cioè quella folla di persone che si frapponeva tra la donna e gesù era un vero e proprio muro insormontabile ma la donna non si lasciò scoraggiare e dio ci dia grazie di non scoraggiarci mai dinanzi ai problemi ai muri che si elevano tra noi e le risposte di cui abbiamo di bisogno anzi questa donna raccolse le sue ultime forze le sue ultime energie sapeva di poter ottenere un miracolo se solo avesse toccato il lembo della veste del signore ecco oggi voglio invitarti a fare proprio questo a raccogliere le tue energie spirituali per poter esercitare una piena fede nel nome del signore e poter ricevere da parte di dio quello che hai di bisogno ci sono benedizioni abbondanti che scaturiscono dalla croce di cristo paolo dirà nell'epistola agli efesini al capitolo 1 benedetto sia il dio e padre del nostro signore gesù cristo il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in cristo gesù c'è ricchezza ricchezza di benedizione quindi nel nome del signore questa donna lo sperimentò perché quando tocco quella veste lei venne guarita e ora potrebbe nascere in noi un dubbio o forse un pensiero ma la veste del signore se solo la potessimo trovare per poter magari toccare anche noi riceveremmo il miracolo ma non fu la veste a guarire la donna gesù lo disse chiaramente il verso 22 figliuola la tua fede ti ha guarita ed è la fede quindi che permette di ottenere i miracoli quella lembo della veste non era altro che uno strumento o di cui il signore si è servito per guarire quella donna oggi quale potrebbe essere lo strumento di cui dio si servirà forse saranno le tue semplici ginocchia mentre ti trovi ora in questo momento implorante la grazia di dio dio potrebbe rispondere o forse potrebbe servirsi di qualcuno che viene in tuo aiuto magari dandoti una parola di conforto o magari pregando per te e se sei malata forse imponendo le mani su di te in obbedienza alla parola di dio che rassicura i discepoli dicendo che questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto e tra questi c'è imporranno le mani sugli ammalati ed essi saranno guariti quale sarà lo strumento non lo so ma quello che è necessario a prescindere dallo strumento è che la tua fede sia appoggiata su cristo gesù perché è nel nome di gesù che i miracoli avvengono ed è nel nome di gesù che si verificano le più potenti operazioni dio ci dia questa fede una fede forte una fede che non si ferma una fede che è capace di realizzare i miracoli del signore in questo giorno metti alla prova dio e dio potrà fare cose gloriose nella tua vita la presenza di dio ci accompagni in questo nuovo giorno pace del signore a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.